Tra pochissimo in studio Andrea Bonini e tutti gli esperti sono concordi su una cosa. Ovviamente tutto questo finirà quando si troverà un vaccino contro il coronavirus. A che punto siamo? Il servizio. Arriviamo a Pomezia in provincia di Roma, in quella che in molti hanno ribattezzato come la fabbrica dei vaccini. Ad accoglierci l'amministratore delegato Matteo Liguori che ci chiarisce come da qui sia già stato sviluppato anche quello per l'Ebola. È proprio all'interno di questi laboratori dell'IRBM che è stato sviluppato il vaccino che verrà presto testato sull'essere umano. La fase di partenza è dunque la stessa dell'Ebola e sul vaccino per il Covid-19 che sarà testato da fine mese su 550 volontari sani nel Regno Unito le aspettative sono molte. Quante probabilità ci sono che sia effettivamente questo il vaccino che sarà commercializzato? Possiamo prendere a riferimento le parole della professoressa Gilbert che è un luminare dell'Oiener Institute. Lei ha detto che questo vaccino ha l'80% di possibilità di essere quello che arriverà al mercato. Nel Regno Unito ci spiega si attende un picco importante tra giugno e luglio dell'epidemia da coronavirus e dunque si corre per testare l'efficacia di questo vaccino. Tutti quanti abbiamo dato una forte accelerazione ma la sfida non è finita. Dobbiamo ancora continuare quindi quanto si è accelerato è il passato, guardiamo al futuro e continuiamo così. Lo Iener Institute della Oxford University che coordina la ricerca ha impiegato pochissimi giorni per reclutare i volontari per la sperimentazione. Un annuncio sul loro sito preso d'assalto ritirato dunque prima della scadenza ma anche in Italia la IRBM ha ricevuto diverse offerte da parte dei volontari per la sperimentazione. Abbiamo ricevuto moltissime candidature soprattutto negli ultimi due giorni. Le persone credono in questo progetto e che gli italiani sono partecipi alla sfida che ha la ricerca in questo momento. Se nei quattro mesi di sperimentazione del vaccino che ci separa da settembre i test venissero superati, partirà quella che viene definita vaccinazione emergenziale. destinate soprattutto ad operatori sanitari e forze dell'ordine che diventeranno dunque parte integrante della seconda fase di sperimentazione. I tempi sono ancora sicuramente lunghi. Non abbiamo oggi elementi per poter dire in uno stato piuttosto che l'altro quando entrerà, però ci vuole ancora tempo. In Italia dove si guarda con attenzione non solo a questa sperimentazione ma anche alle altre ricerche in corso, i tempi per lo sviluppo del vaccino vengono definiti dall'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco e comunque anche nelle migliori previsioni l'attesa resta lunga. Quando arriverà il vaccino in Italia? Sicuramente con l'anno nuovo, non prima. Simona Vasta, Sky TG24, Pomezia, Roma.